Guarda, io voglio stare su quella barca come loro. Guarda che vista! C'è un piccolo contrasole, però... Un video? Sì. Mi cagli in acqua. Una condola. Ah, beh, dove è che siamo qui? Cos'era? Un paviglion di cosa? Singapore. Singapore, sì, che hanno un passato massimo, ma non è un passato massimo. L'uomo che vuoi, vuoi si portano un giro con l'amante bionda. Dove, dove? L'amante bionda. L'amante bionda, sì. Eh, guarda, lo scoop del secolo. Sì, giusto per non farsi notare, hai capito? Non ce lo fanno giro. Giro un panoramico, sì. La nostra è la figlia. Meggio ancora. I mori. I mori di Venezia. Ma qui giù è dove si esce da... Dove stanno posteggiando gli islandesi. Ah, sì. Qua sotto stanno posteggiando gli islandesi, quindi... Gli islandesi. Che figata, gli islandesi. Ui, hai visto che ho messo la microfono per l'acqua? Dove? C'è il suono per l'acqua? C'è il suono per l'acqua? C'è il suono per l'acqua? C'è il suono. C'è il suono. Vai, vai. È che se non va, giù? Eh, nè. Mi gli spiace. Grazie.